Ma allora, noi siamo intervenuti con un finanziamento di circa 200 mila euro e quindi verrà riqualificato l'edificio. L'edificio che oramai è in condizioni, lo abbiamo visto prima, di grandi difficoltà, quasi non si può camminare dentro e quindi verrà completamente fatto nuovo, ammodernizzato anche da un punto di vista di qualità energetica con tutti i criteri nuovi e poi in quella realtà si vuole creare una scuola di formazione, si vuole creare una vivibilità anche per i giovani, per i nuovi artigiani e dare e rendere Altare centrale proprio su questo argomento.